secondo me è stata l'ennesima conferma di un ottimo lavoro svolto finora da parte di tutta la squadra e tutti i momenti fatti in ormai due mesi sta andando sui frutti e quindi sono contento di questa cosa le mie prestazioni domenica sono contento molto perché so di aver dato un grosso contributo per la vittoria sia offensivo che difensivo però non sono del tutto soddisfatto perché so che so di aver sbagliato delle cose su cui devo devo e sto lavorando molto soprattutto difensive e quindi spero di riuscire a dare un maggiore contributo nelle prossime partite e così in tutto il campionato essere in testa in classifica in questo giro della supercoppa secondo me è un grandissimo lato positivo perché come ho detto prima l'ottimo lavoro svolto finora negli ultimi due mesi si fa vedere e quindi dobbiamo essere solo che contenti di questo e questo ovviamente ci dà degli stimoli in più per dare il massimo sempre di più sia in allenamento che in partita per il proseguimento della competizione possiamo far bene secondo me molto bene e ora dobbiamo pensare un passo alla volta una partita alla volta e quindi domenica di chiudere la pratica solidare il nostro passaggio del turno domenica contro Padova la mentalità con cui scenderemo in campo secondo me sarà sempre la stessa cercheremo sempre di seguire il nostro piano partita e dare il massimo per vincere e di creare un bel basket da vedere soprattutto per i nostri tifosi che sono contento di aver visto nonostante la brutta situazione che c'è al momento tutte le problematiche che ci sono e quindi spero si possa divertire e ovviamente di vincere